Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a questo nuovo video, vai via! Oggi, giorno ragazzi miei, 23.04.2019, il video lo vedrete il giorno dopo ovviamente, proprio in questo punto abbiamo fatto uno scambio, io e questa persona ragazzi che vi lascio il nickname è un truffatore, è un truffatore e vi lascio tutte le clip dopo e le chat, mica chat e tutto quanto dopo. Questo qua è il truffatore, X1SLeon, mi sa che pure mi ha tolto dai amici, adesso vi spiego cosa è successo, così arriveremo al punto della situazione, perché è successo ciò. Se mi ha tolto dai amici, vabbè, in ogni caso rimane un vigliacco, perché io ho dato un sacco di cose, io ho dato un sacco di cose e io ci ho smelato un sacco. Adesso vi faccio vedere, vediamo un po', se non c'è più tanto lo noto no? Ecco, no, mi ha tolto dai amici, ragazzi, sono senza parole, sono scioccato, sono scioccato che proprio durante questi periodi devono succedere queste cose. Vi spiego lo scambio com'era, è questo qua lì dì ragazzi, ve lo ingrandisco pure, è lui. Ragazzi, l'ho già segnalato a un sacco di community di Salva al Mondo e l'hanno eliminato, io spero che guardi il video perché veramente lo sfotto male oggi. Vedete quest'arma? Ok, doveva darmi un assalto all'argon in fisico moddato, come ben sapete io l'ho assalto moddato in natura moddato, che mi aveva recentemente chiesto e io ovviamente non da stupido non glielo ho dato, ecco. Dov'è che è? Eccolo qua, vedete? E non glielo ho dato, non glielo ho dato e non lo darò mai a nessuno, ecco. E niente, lui mi ha preso per il culo dandomi questa roba. È uscito, mi ha bloccato su Telegram, qua ci sono proprio dei problemi seri, ma non è tanto l'arma che mi doveva dare. Devo darmene due. Un'arma a doppio bonus, che vi faccio capire l'esempio, un doppio bonus equivale a questa, vedete che ha il doppio bonus. Un'arma a doppio bonus, anche pure il livello basso, tipo era il 76 o il 77, ed era un lanciarazzi, lanciarazzi del coso, del drago. Come vedete noi abbiamo ora 220 di spazio, prima avevamo 210, cioè 230. Vi spiego cosa mi ha preso, meno male che c'ho ancora 2000 di polvere minera ossidata. Tutta questa qua, gli dovevo dare 1600 polvere ossidata. Io giustamente da onesto, io non l'ho mai tuffato nella mia vita, gli ho droppato 1600 di polvere ossidata. Poi, 450 di scaglia, me ne è rimasta 100, capite? 100 di scaglia mi è rimasta. E, attenzione, non meno, cioè, anzi, molto importante, l'orso doppio elemento. Fate finta che questo è un orso, vi faccio vedere di che cosa si tratta. L'orso doppio elemento fuoco. Che non lo trovo più, adesso lo troviamo. Eccolo qua, era così, doppio elemento. Non era quello di Esnico, quello di Esnico vale ancora molto di più. Però dico, non era questo, era proprio questo. Questo qua ha il valore sul mercato di 400 di raggio circa. Quello a 106. Questo qua vale su 500 e passa. Cioè, ma capite? Capite che cosa significa? Mi ha tirato via un sacco di materiali per darmi questo. Doveva darmi due armi e in realtà me ne ha droppata una, questa mezza seca, capite? E niente, doveva darmelo in fisico. Ovviamente, come ben sapete, il fisico è moddato. Non può avere il fisico su quest'arma, può essere solo energia. E io ce l'ho a natura. Fisico mi mancava, mi poteva servire. E facendo così sembrerebbe fisico. Ma in realtà no, non è fisico. E niente, me l'ha messo nel culo. Ragazzi miei, io vi rilascio il nickname. Vi lascio la clip. Dopo che vi ho fatto vedere il nickname, eccolo qua. Segnatevelo pure e segnalatelo tutti, ragazzi. Io non ho proprio parole. Comunque io allo stesso tempo cerco ancora raggio corlucente. Scambio sempre armi moddate, eccetera. Sicuramente quest'arma qua che mi ha dato non la scambio, ma la userò. La userò tu. Non me ne frega niente. Il resto scambio tutto. Ci sono armi belle anche rarucce. Scambio veramente tutto e cerco raggio corlucente, nient'altro. O anche skyde, dipende. Ragazzi, io vi lascio la clip della truffa e niente. Così almeno capite anche un po' chi è come persona. E se in caso lo beccate non ci scambiate, ecco. Eccoci. Dobbiamo fare uno scambio bello tosto. Sperando che non succeda niente. Io sono livello, come potete ben vedere, 130 e lui è 37. Io spero nella madonna e nel signore che non succeda niente. Speriamo. 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 Grazie. 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 Bello. Mi senti? Sì. No, no, riprendi, riprendi, riprendi. Che senso? Alta. Dai. Guarda la quantità. Ah. Sì. 5 anni... 1.600 di polvere. Quanti aspetta? Quanti che sono? 2. 1.2.3.4.5. Sì. Dovrebbe essere giusto. Era... Aspetta. 1.2.3.4.5.6.7. Sì. Bellissima sta scritta. 1.2.3.4.5. Dammi di dallo al mano. Ma io non ho capito cosa che vuoi fare. Come vuoi che troppo? Entra dentro, controlla se è tutto giusto e poi mi droppi la roba. Va bene. Vediamolo. No. Bravo. Bravo. Ragazzi. Avete visto? Cioè, siamo proprio ai limiti. Potevo capire che mi truffava 20 di raggio, 50 di raggio. Cioè, 20 di raggio è anche già troppo per me poi. Ci facciamo... Cioè, se mi truffava tipo, che ne so, un 100 di raggio. Sì, ma l'ha truffato bene. Ma truffarvi 1.600 di polvere ossidata. 450 di scaglia. E un'arma che vale 400 di raggio secondo me è un po' esagerato, ecco. Cioè, capite mo' in che situazione sono. Io sono in questa situazione, ragazzi. Tra l'altro, vabbè, tralasciate il deposito. Che io però il deposito non lo userò mai nella mia vita. Io colleziono. E ci sta. A me piace un botto collezionare. Ma... Sono messo malissimo, ecco, di materiali. Quindi togliermi gli unici materiali che c'ho è veramente una cosa brutta. E niente, ragazzi. Ciò che è successo è successo. Ci vediamo stasera in live alle 8 sui server privati dove ne parleremo meglio. Spero che questo video vi sia stato utile. Non vi sia piaciuto anche. Spero che vi sia piaciuto. Però è più l'utilità. Ecco. L'utilità, ora. Spero di essere stato utile. Vi rilascio il nome del truffatore che è lui. Spero che dalla clip avete capito tutto. Raga, segnalatelo in massa. Non so veramente che dire. Alle pagine telegram ho già fatto appello e hanno fatto il loro dovere. Le ringrazio ancora. E niente, raga. Qui direi che è tutto. È bella, raga. Bellissimo. Godi, godi. Sei fiero. Ne sono fiero. Ne sono fiero. Certo. Coglione cosa. Coglione cosa. Svegliati. Svegliati. Meno male che era un'arma regalata. Ma tu svegliati. Maria di cosa truffate. Ma svegliati. L'unica volta che mi hanno truffato è stato oggi e ieri. Sembra la stessa arma alla fine che gira eh. Tranquillo. 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 Ma quest'arma non ti ritornerà più indietro. Allora, aspetta, 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 aspetta. Guarda che cosa c'ho qua. Ne ho un'altra identica al 130. Allora, so, io ti seguo su YouTube. Mi piace un bordello. Ti seguivo. Fino a quando quel coglione del tuo amico non gli ha truffato l'arma. Ah beh, perché è venuto il tuo amico del cazzo a truffarmi. Ti va bene così. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo di ragionamenti di merda fai? Ma ti svegli. Cioè, tu mi vieni a truffare e tu. Va bene. Va bene un cazzo. Non sai neanche tu che cazzo dire. Dai, dai, dai. Va bene, ok. Bravissimo. Grazie fra. Sì, grazie un cazzo.